Kristen Stewart Musa di Chanel, non ho paura di essere diversa Bellissima e particolare, Kristen Stewart continua a vivere un momento molto positivo per la sua carriera. Oltre al lavoro di attrice, e alla recente esperienza come regista, la star di Hollywood è conosciuta per essere una delle principali icone di Carla Gerfeld La splendida Kristen è stata scelta infatti per la nuova pubblicità di Chanel e le hanno chiesto di interpretare il ruolo di Gabriele Chanel, che sarebbe poi diventata Coco Kristen Stewart è la nuovo Coco Chanel. Kristen Stewart ha deciso di cogliere questa nuova opportunità professionale al volo e, come ha dichiarato a Grazia Francia, ha interpretato il ruolo di Gabriele Chanel con grande entusiasmo Lattrice ha sentito di avere molte cose in comune con lei, in primis la percezione di sentirsi diversa dagli altri e il desiderio di non volersi nascondere La Stewart infatti ha parlato della sua carriera, spiegando come non si sia mai lasciata cullare dal successo, anzi, il suo spirito istintivo e audace l'ha spinta a mettersi alla prova in molte occasioni, costruendo una carriera ricca di successi professionali e di sfide vinte Bella e coraggiosa, la star di Hollywood è diventata un'autentica icona di stile, sempre pronta a mostrarsi secondo la sua natura, proprio questa sua caratteristica la rende una delle giovani donne più apprezzate e ammirate del momento Anche la sua vita sentimentale, vissuta alla luce del sole, è per lei motivo di orgoglio, la sua relazione con Stella Maxwell infatti le ha permesso di ritrovare una serenità che sembrava perduta Kristen e la sua vita vissuta al top. Appassionata di moda, assidua sperimentatrice e icona di stile, Kristen Stewart, nonostante la giovane età, sta facendo della sua vita un autentico capolavoro Sono tantissimi i registi che la scelgono per partecipare alle loro pellicole e anche gli stilisti non sono meno, dal primo momento che l'ha vista, Carla Gerfeld è rimasto affascinato dalla sua personalità eccentrica e fuori dalle righe, camaleontica e naturale allo stesso tempo La collaborazione con il celebre brand Chanel, l'ha portata a diventare anche un'icona del mondo della televisione, conquistando il pubblico con la sua bellezza e l'intensità del suo sguardo Molto soddisfatta dal punto di vista professionale, la bella Kristen sta vivendo una storia d'amore con la A maiuscola, la sua relazione con la meravigliosa Stella Maxwell è sulle copertine di tutte le più note riviste di gossip Secondo alcuni rumors le due potrebbero convolare a nozze tra poco, coronando il loro sogno d'amore, vissuto nella loro casa di Los Angeles Un amore a 5 stelle che ha regalato alla Steward una nuova e rinnovata serenità, compromessa dalle ultime relazioni passate Le due sembrano più affiatate che mai, sempre insieme tra le strade della città, pronte a sostenersi l'una con l'altra con la forza del loro sentimento, i fan sono in attesa di qualche news sulle nozze, ma da parte delle dirette interessate non è arrivata né la conferma né la smentita Che a breve siano fiori d'arancio per una delle coppie più bello dello show business. In molti sperano nel lieto fine tra la sexy vampira e l'incantevole angelo delle passerelle Che a breve siano frappogli Grazie a tutti.